25 dicembre, le Diem Natale Cristi, la Chiesa festeggia la nascita di Cristo e l'inizio dell'era cristiana, anche se la notazione dell'anno zero è più simbolica che storica. Gli esperti la anticipano infatti di 7-4 anni sulla base della data presunta di Re Erode. Per quanto poi riguarda la data liturgica, bisognerà attendere qualche secolo con Papa Giulio I, che la fisserà al 25 dicembre sostituendola alla festa pagana della fine del sostizio d'inverno e delle feste saturnali romane con il loro tradizionale scambio dei doni. Alla celebrazione del Dio Sole che illumina la notte più lunga dell'anno, dunque viene sostituita la figura di Cristo che si incarna per portare luce nel mondo. Anche se per avere una documentazione del 25 dicembre come data del Natale, bisognerà attendere il 354 d.C., la ritroveremo su un almanacco.